Il Sudafrica, patria di Nelson Mandela, simbolo della lotta per i diritti, sembrava il luogo perfetto per ospitare il summit dei Nobel per la pace che avrebbe a suo modo anche celebrato l'eredità dell'eroe della lotta all'apartheid. E invece è finita nel peggiore dei modi con l'incontro internazionale sospeso dopo che il governo sudafricano ha negato per la terza volta il visto al Dalai Lama. Una decisione presa per non urtare la Cina, importante partner commerciale, nonostante gli appelli di tutti i Nobel per la pace che avevano minacciato fin da subito di boicottare l'evento se non avesse partecipato anche il Dalai Lama. Fanno i prepotenti con una persona semplice, ha commentato il leader spirituale tibetano che ha ringraziato comunque per gli sforzi fatti gli altri Nobel.